Buongiorno a tutti, 15 marzo è quasi scontato in momenti come questi di forte tensione diplomatica, militare, una vera e propria guerra, come sappiamo, a nord del Mar Nero, che appunto vede degli scenari piuttosto inquietanti e quindi mi è venuta la memoria il 15 marzo del 1939, quando la Cecoslovacchia si dissolse, quella Cecoslovacchia che era stata costituita appena 20 anni prima con una composita realtà di regioni tra cui la Bohemia, la Moravia, la Slovacchia e la Rutenia subcarpatica che oggi si trova proprio in Ucraina, quindi in qualche modo ci va anche a a riallacciare a una zona particolarmente delicata, particolarmente in passaggio continuo di territori, nazioni, popoli, eccetera, culture e quindi inevitabilmente appunto oggi ho deciso di fare un video sulla dissoluzione dello Stato cecoslovacco, ovviamente partendo dall'occupazione nazista. Un episodio che si va a ricollegare ovviamente con il Patto di Monaco della fine settembre del 1938, su cui abbiamo abbondantemente dedicato su questo canale diversi video, sia parlando dell'evento diplomatico in se stesso, sia parlando di alcuni brani tratti da alcune memorie, sia attraverso anche un film, la conferenza di Monaco che appunto ci ha dato anche un'occasione di interpretazione filmica con più o meno pertinenze, è un film che mi ha convinto poco, se avete poi voglia vi andate a vedere la recensione che ho fatto recentemente proprio su quella pellicola. Detto quindi questo, con la conferenza di Monaco, con appunto la data del primo di ottobre 1938, la zona dei Sudeti, una zona a forte componente germanofona, passò dallo Stato cecoslovacco al Reich. Un Reich che già a marzo del precedente, a marzo del 1938, si era annessa l'Austria con l'Anschluss, quindi un'ulteriore prova di forza, un'ulteriore forzatura a quell'assetto creato a Parigi con la serie di trattati del 19 e del 20 che appunto avevano ridisegnato l'Europa, la Mitte dell'Europa, aveva ridisegnato i territori che una volta appunto facciano parte degli imperi, dei quattro imperi che erano sprofondati nel corso della Grande Guerra. E secondo me l'idea che mi è venuta è quella di poter trattare il disfacimento dello Stato cecoslovacco con l'annessa occupazione del nazista, almeno da parte della Bohemia e della Moravia, la Slovacchia ha avuto una sua vita diversa, nel senso che c'è stata attraverso un governo fantoccio nazista, si è distaccata dallo Stato unitario, è stato un po' l'elemento, la leva che ha fatto implodere, in realtà ovviamente c'era una forte componente di spinta esterna da parte appunto di Berlino che appunto ha creato questa crisi appunto che poi colla il completo smembramento dello Stato afferente a Praga e l'idea è quella di andare a leggere le pagine del diario di Ciano, che in questo è sempre molto attento, molto sensibile, se poi questa sensibilità poi è ben riposta o mal riposta è un altro discorso, però regista sul proprio diario una serie di avvenimenti, di sensazioni, di stimoli, di suggestioni che secondo me sono particolarmente interessanti. Io partirei dal 13 marzo. 13 marzo, niente di particolare importanza per noi, dato che il Duce non intende attribuire speciali interessi alla crisi slovacca che si sviluppa e prende preproporzioni inquietanti. Ghering è partito da Sanremo per partecipare a un consiglio di gabinetto. Quali intenzioni ha la Germania? Per ora niente, ci è stato detto tranne espressioni di malcontento germanico verso il governo di Praga. Naturalmente anche Varsavia e Budapest convinciano ad agitarsi e sappiamo appunto come poi vi sarà un certo fermento proprio per spartirsi la pelle del moribondo Stato ciecoslovacco. Attendiamo, d'altro canto, il nostro ruolo in questo caso non può essere diverso da quello che di attendere lo sviluppo degli eventi ed è particolarmente interessante visto che lo stesso Mussolini si è posto come garante delle concessioni fatte a Monaco nel settembre del 38, quindi la firma apposta dei quattro grandi europei per la cessione unilaterale, visto che la giocoslovacchia non era stata neanche invitata a quella conferenza e quindi diciamo in qualche modo era stato un po' certificato come quella di Sudeti fosse l'ultima richiesta da parte di Hitler. In realtà appunto era un'ulteriore occasione per alzare il piatto delle richieste. 14 marzo, lunga conversazione con Wellington Koo sulle vicende cino-giapponesi. Qui c'è la nota, uomo di stato cinese. Anche egli, come tutti i cinesi, spera sul fattore tempo per giungere all'esaurimento del Giappone. Consiglio di accordarsi direttamente con Tokyo senza fare alcun assegnamento sulle non disinteressate promesse di aiuto che giungono dalle consuete democrazia. Qui abbiamo dei riferimenti alla realtà orientale. Il duca d'aosta parla con notevole ottimismo della situazione dell'impero. Beh, vorrei vedere un po' qualche mese dopo, qualche anno dopo la situazione come sarà così ottimistica. Devo però aggiungere che tra i tanti che vengono di là egli è il solo ottimista. In questo risente un po' dello spirito di Cavallero che appunto che gravitava in quelle zone. Quindi diciamo probabilmente il duca d'aosta ha delle suggestioni anche da parte di Cavallero che sappiamo essere stato un incallito ottimista. Devo però... Ok, sì. Si raccomanda di evitare il conflitto con la Francia che riporterebbe in alto mare l'opera di pacificazione dell'impero e metterebbe a repentaglio la conquista stessa. Non ho capito bene se lui parlava il vicere d'Etiopia o il figlio di una principessa francese. E anche qua, essendo appunto il duca d'aosta Amedeo, figlio di una Orléans, diciamo che il sospetto può essere ponderato. Le notizie dall'Europa centrale si fanno più gravi. Per la prima volta Ribbentrop ha parlato con Attolico, l'ambasciatore italiano a Berlino, e ha lasciato comprendere che il programma tedesco è massimo incorporare la Bohemia, rendere vassalla la Slovacchia, a cedere la rutenia agli ungheresi. Non si può ancora dire come e quando ciò sarà realizzato, ma un tale evento è destinato a produrre la più sinistra impressione nel popolo italiano. L'asse funziona solo in favore di una delle parti che diviene di un peso troppo preponderante e che agisce di sua esclusiva iniziativa con ben pochi riguardi per noi. È interessante che questo lo venga a scrivere il 19 marzo Ciano e poi meno due mesi dopo avrebbe firmato legandosi mani e piedi con il patto d'acciaio. Esprimo questo mio punto di vista al Duce. Egli si mantiene riservato e non sembra ancora attribuire grande peso all'avvenimento. Cerca una contropartita nei vantaggi che avrà l'Ungheria realizzando la frontiera comune con i polacchi. Mi fa dire a Budapest di marciare con decisione, ma a me ciò sembra poco. Sappiamo come in realtà poi Ciano si accontenterà il mese successivo con l'occupazione dell'Albania. Tra l'altro vi anticipo che in occasione dell'anniversario dell'occupazione dell'Albania farò anche un video. Vi lascio in sospeso, vi aggiornerò per tempo su questo anniversario. 15 marzo. Nella notte le vicende precipitano. Dopo un colloquio Hitler-Acha-Schwalskowski, qui c'è la nota, Acha, presidente della Repubblica cecoslovacca, Chavalskowski, ministro degli esteri cecoslovacco. Le truppe germaniche iniziano l'occupazione della Bohemia. La cosa è grave, tanto più che Hitler aveva assicurato che non avrebbe mai voluto annettersi un solo cieco. Diciamo che delle promesse da marinaio di Hitler sappiamo quanto possano valere e tra l'altro anche in considerazione dell'amarezza che era stata quella di Benesch nella fine dell'anno prima, a ottobre, quando si era dimesso perché assolutamente angustiato, assolutamente contrariato dall'azione unilaterale delle potenze europee nell'attribuire i sudeti alla Germania. L'azione tedesca non distrugge ormai la cecoslovacchia di Versailles, bensì quella che era stata costruita a Monaco e a Vienna. Una consolazione, come si direbbe a Roma, ci consoliamoci con gli aglietti, nel che effettivamente già era abbastanza mutilata la cecoslovacchia, però diciamo che questo non è una giustificazione. Quale peso si potrà dare in futuro a quelle altre dichiarazioni e promesse che più da vicino ci riguardano? Questa è una bella domanda, infatti se fossi stato inciano magari mi sarei fatto anche due conti su quello che avrebbero promesso da lì a sei mesi i tedeschi o anche nei prossimi quattro anni. È inutile nasconderci che tutto ciò preoccupa e umilia il popolo italiano. Il problema è che questo poi persiste. Bisogna dargli una soddisfazione, un compenso. L'Albania. Anche Ciano trova un accomodamento e si accontenta. Ne parlo al Duce cui dico anche la mia convinzione che oggi non troveremmo né ostacoli locali né serie preoccupazioni internazionali per intralciare la nostra marcia. Diciamo che visto che ci troviamo di fronte a un bandito come Hitler che ruba e fa dei crimini immensi diciamo che l'occupazione dell'Albania a questo punto diventa veramente un peccato veniale. Mi autorizza a telegrafare a Iacomoni di preparare movimenti locali e personalmente ordina la Marina di tenere pronta la seconda squadra a Taranto. Conferisco subito con Cavagnari e dopo aver dato le istruzioni telegrafiche a Tirana posso parlare per telefono a Iacomoni che era in viaggio per raggiungere la sede. Dice che domani telegraferà quanto ritiene possibile fare e prospetta anche l'eventualità di mettere l'ultimatum al re o egli accetta lo sbarco delle truppe italiane e chiede il protettorato oppure le truppe sbarcano contro di lui. Conferisco nuovamente col Duce mi sembra un po' meno deciso per l'operazione albanese. Intanto giunge Assia col solito messaggio questa volta è verbale e tanto poco soddisfacente. Il Führer, Assia è l'ambasciatore, il Führer ci fa dire che ha agito perché i ciechi non smobilitavano le loro forze ai confini perché continuavano a tenere i contatti con la Russia e perché maltrattavano i tedeschi. Questo lo dice Hitler. Questi pretesti sono forse buoni per la propaganda di Goebbels ma dovrebbero venire risparmiati quando parlano con noi che abbiamo avuto il torto di essere con loro troppo leali e quindi abbiamo anche una piena consapevolezza da parte di Ciano e quello che appunto preoccupa non è che tanto Ciano come si dice scriva e pensi queste cose. Il problema è che poi dopo continuando a pensare e scrivere queste cose fa in politica estra quello che sappiamo che farà. Assia nell'aggiungere i ringraziamenti del Führer per l'immancabile appoggio italiano dice che con questa operazione 20 divisioni sono libere per essere impiegate in altra zona in sostegno della politica dell'asse. Ma Hitler avvisa Mussolini che se intende intraprendere un'azione in grande stile è meglio attendere un paio di anni quando le divisioni prussiane disponibili saranno 100. Questa giunta se la potevano risparmiare. Il duce reagisce asserendo che in caso di guerra con la Francia ci batteremmo da soli senza chiedere un solo uomo alla Germania ben contenti se potrà rifornirci di armi e altri mezzi. Anche qui si fa un po' il gioco degli inganni. Qui non si riesce a capire chi è il beffato e il beffatore. Torno dal duce dopo che Assia si è ritirato. Lo trovo scontento del messaggio e depresso. Non vuole dare alla stampa la notizia della visita di Assia. Gli italiani riderebbero di me ogni volta che Hitler prende uno stato mi manda un messaggio. Lo farà ancora per i successivi mesi e anni. Parla ancora dell'Albania ma non si è ancora deciso. Qualche dubbio che ancora non mi rivela tormenta il suo animo. È calmo come sempre nelle gravi vicende ma non ha almeno per ora la reazione che attendevo trovare lui. Vuole che torni in serata. Ricevo l'ambasciatore di Polonia e il ministro di Rumania che dignitosamente accettano il fatto compiuto. Non possono fare altrimenti diciamo che. Vedo nuovamente il duce nel tardo pomeriggio. Si rende conto della reazione ostile del popolo italiano ma afferma che ormai conviene far buon viso al gioco tedesco ed evitare così di renderci addio spiacenti e ai nemici suoi. Accenna anche alla possibilità di un colpo in Albania ma è sempre dubbioso. Anche l'equazione dell'Albania non potrebbe a suo avviso controbilanciare nell'opinione pubblica mondiale l'incorporazione nel Reich di uno dei territori più ricchi del mondo quale la Bohemia. Mi convinco che non se ne farà di niente. Tanto più che all'ammiraglio Cavagnari ricevuto prima di me il duce si è limitato a fare domande generiche circa la possibilità di eseguire uno sbarco ma non ha dato istruzione di sorta. Peccato. A mio avviso l'andata in Albania avrebbe rialzato il morale del paese. Sarebbe stato un frutto effettivo dell'asse raccolto il quale avremmo potuto riesaminare la nostra politica. Anche nei confronti della Germania la cui egemonia comincia a disegnarsi con contorni molto preoccupanti e sappiamo che nonostante ciò tutto quello che si andrà a fare nei mesi e anni successivi. Quindi diciamo che è un bel problema nel senso che abbiamo vediamo bene con grande lucidità l'anamnesi potremmo dire l'anamnesi della malattia che è nel paziente Europa però diciamo che poi la cura che propone Ciano sarà completamente diversa nel senso che la cancrena dei vari arti procederanno e quindi abbiamo una effettiva impossibilità di valutare le contromisure. Anzi si va sempre peggio in tutta la sua gravità. Quindi mi sembra che abbiamo inquadrato abbastanza bene la realtà di quei giorni. Potremmo leggere i giorni seguenti ma sostanzialmente poi come abbiamo visto vi è una situazione abbastanza passiva in tutto e per tutto, una situazione passiva che andrà a declinarsi appunto come dicevano i mesi e negli anni seguenti con una subalternità, una serie di complessi, di inferiorità di complessi, di doveri in qualche modo cercare di reagire la maggior parte delle volte in maniera assai maldestra verso una politica non solo aggressiva, non solo spregiudicata, non solo prepotente della Germania ma anche, almeno finché gli va bene, assai prolifica nel trovare delle fessure, delle crepe all'interno dell'ordine precostituito internazionale. Comunque è un altro discorso però è interessante inquadrare come la politica italiana si potesse inserire o meglio potesse non inserirsi all'interno di queste dinamiche e quindi ricordare come lo sfacelo della Cecoslovacchia fosse sostanzialmente un'ulteriore impunità della situazione generale con ovviamente tutta una serie di problematiche a livello sociale, economico, politico e chi più ne ha più ne metta e chi vuole trovare delle similitudini con l'attualità è ovviamente libero di farlo perché ovviamente ve ne sono assai detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!